E' un'imagineabile che erano da verde, che erano da marrone, da luce, da luce, da luce, che è di fuori da pulizia, che è di fuori da morta, ma ti ho spiegato, e io mi sento in questo momento con la capa, perché tu pinta il quadro costantemente. Anche il poter imparare con il caldo è anche a desarrollare una modalità di queste cose. Anche pensate così, anche un'altra un poco delle cose che mi fa fare, non sono universitarie, ed è specialmente in trascensione, basso, guarda, sei, mi primary amore di un trascensione basso, guarda, sei una roba. Anche questo è il punto di quello che mi sento. E ho sempre iniziato a parlare. Ho sempre inizio un buon manerismo, ho sempre inizio un buon frase, ho sempre inizio un sistema di cui scrivere una cosa. E ho sempre inizio una cosa di una cosa, inizio un percorso a un qualcosa di diverso. E inizio un po' di fine, per un minore concerto centrale, inizio un po' di carlo, in della Repubblica dell'Americano, accompagnando un concierto popular 13 o 18 del Centro Cuarto. A me tamo è stato il cerimone del concierto. Anche un dia saxe, con il senano, che per certo chiamava «Bienvenido Bustamante» trajo un telegramo felicitato a 13 anni, con il concierto rei, un telegramo di felicitazione. Anche con il seno il telegramo gli dice «Què paloma è?». E' un po' che già fa. Anche a me, a me è stato il grato di canzì. Anche un uomo gli dice «Mira, io tengo una trasmissione per l'Otra». Io voglio usare esa frase, mi gusta molto. Tu me das permiso. Principalmente, io mi intervento a me vederlo. E con mucho gusto. Io mi dico «Como è un musico?». E dico «Què non costa bene?». E dico «Què non costa bene?». E dico «Què falo bene?». Io mi dico «Como è un figlio d'influenza latino del Pterockey. Da me dice «Pterocchè è un Molly». Mi conosce «Pterocchè è un Mann» di Dio Acme. E io sono assate che abbiamo condotto a tutti. Avevo un mese che non, avevo un male di casa. Di innam. E eccetera. Alcun come moro già cancino. Eppure c'è, da qui di Vietnam. qui andava a Zeranzia, oia men. E qui andava a Zeranzia, oia men. Tu sai che a Zeranzia, oia muchazzo, e cosa oia men. Andava a Зeranzia, oia men, andava a voi troppo. E da meno che i domenicani che non vedi nè. A te che non costa un'one che siamo capace ad masukero, e allora perché? E qui è stato che un cocktail e mi devi lasciare tanto a mano che lo ci faccio, lascia, e questo è un'occhio, ma feia. Daria bringt comunque come si traducì un poco la sombra, la merca, una coscienza proprio di Caio Grande, un verbo proprio di Breida Strato, Main Street, un po' così, un altro proprio di Broadway e anche, un po' ti un gai, mi sembra che a sé, che era un mio, un po' mi chungià, un strato per light in the middle of Broadway, non è Caio Grande, però non è che il radio non fa, che non è che, non fa, non fa, non fa, non fa, non fa, non fa, non fa. Non ho così, perché non è Caio Grande, se stai, che fai su parte del centro del Plato, che poi siamo a partire del Plato e quattro, anto aveva come c'è, che cosa aveva, è ma è Caio Grande, dico, è l'inizio? C'è qua, però ci vorrei disse, costa dove usare il chiave, anto, però a te, in altre cose, tanto come ti senti, approfondi i calmini, Ernest, siamo Ernest, pormo il sapore di terra, quindi un'altra quinta alimbiata che li teme, una a unica a che rimane, un'altra quinta è andata, e gli Qu'è attacchia! Passa a casa! Poi senta a casa! E passa a casa! E passava, e passa a casa! Qu'è passava? Guarda qui schon! E passa a casa! E passa a casa! E passa a casa! e drive di capitine... è un altro cosco... e' un' comedia che lo stesso pi Adamsone... che si chiama il tuocorso, chocopè... dìh un po' più, dopo questo bisogna... perché c'è un po' cos... poi un po' troppo per le chocopè e poi citandolo. Per il pubblico, hanno fatto lo che sei... Stulling... weiter e stiamo con il mio soggetto. Quindi questi ripetano, e stanno facendo queste stracche, qualcuno ha parlato no chiede dicendo che comunque non vena dissi, non vena dissi mai risposta, ma è un mio soggetto a questo essere e do solo, come l'hombre che fa fare le feli d'integrazione del suo posto. Ma poi non siamo Paati Anu Star, quando l'apoteva 12 anni, 6 anni, 8 anni, 8 anni, комнаte di un po' di 200 anni, 5 anni per la gente non è abbiamo perché i primi letto si no era più incontrazata, ma invece si avvicina il circolo, diciamo e quando l'arrivo quasi sarà un accello della scatola, ma non è successo, insomma la scatola in fondo, ma è un connesso colpimento di corso quindi il corso, la scatola, la scatola, la scatola, la scatola, la scatola, la scatola grazie. Alla prossima. Grazie. 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 Grazie.